Romina ha una bellissima senata a Pergine Valdano, c'era un importante anniversario che avete festeggiato alla grande, ci sta ascoltando anche Vincenzo Ceccarelli, quanto sei contenta e soprattutto quanto anche avete lavorato per questo grande traguardo, per questo grande obiettivo? Si è lavorato molto come associazione ma l'obiettivo ne valeva la pena ovviamente e abbiamo voluto valorizzare il centro storico di Pergine, comunque il nostro territorio insieme a questa cena perché è da qui che è partito il progetto 25 anni fa e qui siamo voluti tornare a celebrare dando anche respiro a questa stupenda location. Sì, una cornice veramente splendida, accogliente, un'esperienza straordinaria che in questi 25 anni e in quelli che continuerà comunque a lavorare ha interpretato e sta interpretando quello che è lo spirito e la filosofia che avevano pensato i padri costituenti dell'Europa, vale a dire un'Europa dei popoli, un'Europa fatta dalle comunità, non soltanto le grandi comunità, quelle delle grandi città ma anche delle piccole comunità, le comunità rurali così come è il paese di Pergine. Per noi è un piacere comunque sostenere queste iniziative perché come ci ricordava prima Vincenzo Ceccarelli è un modo per costruire l'Europa dei popoli, non solo l'Europa basata su meccanismi finanziari ma un'Europa che comincia ad avvicinare le persone e questa è un'iniziativa che nel corso degli anni ha dato la possibilità di creare rapporti importanti fra persone di paesi diversi. Per cui l'amministrazione è ben lieta di collaborare, di dare il proprio supporto per lo sviluppo e per continuare in queste manifestazioni. Un sentito ringraziamento ai giovani che hanno inciso questo CD, in particolar modo a giovani che vengono da altre realtà del Valdarno e le cui famiglie hanno creduto in noi, nel nostro progetto e le hanno consentito di spostarsi in Olanda a luglio scorso sostenendo anche delle spese dal punto di vista personale pur di partecipare a ciò che abbiamo vissuto stasera, quindi a loro veramente un sentito grazie. Grazie!